cari amiche un saluto come sempre da Roberto Artigiani che come vedete è ancora una volta in compagnia della pancera la famosa pancera pensate in questi 25 anni di carriera l'oggetto che mi ha dato maggiori soddisfazioni è proprio questa pancera migliaia e migliaia di persone mi fanno i complimenti tutt'oggi per averla acquistata per averla indossata pensate io nonostante l'età beh mi mantengo abbastanza in forma perché quando posso la uso e la uso molto spesso dice perché perché toglie veramente la pancia perché veramente fa quel che deve fare ma in maniera naturale vedete io oggi vedo molte pubblicità molte aziende che offrono quegli oggetti con quegli elettrodi che poi vanno a corrente forse non faranno male ma certo l'idea di avere degli elettrodi dell'elettricità sul corpo a me non piace perché poi dover per forza usare quello magari spendendo anche di più quando c'è una cosa naturale come la nostra splendida incredibile pancera che è stata realizzata come ben sapete con un materiale molto particolare e che oltre a fare quello che fa vi dà anche un altro risultato immediato cioè vi rende esteticamente subito più belle perché essendo il materiale elastico vi modella il corpo subito in maniera che anche dal primo giorno che andrete ad usarla ad indossarla avrete un fisico già migliore per poter indossare degli abiti e quindi non non vedere magari una pancia che c'è guardate è favolosa come vedete ha un attacco automatico veloce quindi potete metterla con facilità una volta indossata non si sente neppure però basteranno pochi passi pochi movimenti e questo è il risultato che si ottiene tutto quello che vedete quel liquido è grasso in eccesso che è stato tolto dal vostro corpo e lo ha assorbito la pancera perché perché muovendovi naturalmente voi fate una sudorazione che poi quella che serve e tutto questo senza fare della ginnastica senza andare a fare magari del footing senza dover per forza fare dei movimenti particolari andare in palestra ma semplicemente indossandola in ogni momento del giorno quando vi va quando ne avete voglia quando ci avete da lavorare quando siete libere quando fate una passeggiata quando fate le vostre faccende domestiche in qualunque caso ma anche gli sportivi e i giovani meno giovani quando fate un po di movimento indossatela vi accorgerete i risultati lì proprio dove voi volete ottenere risultati e questo è giovanissimo magari uno sportivo che non avrà un filo di grasso ma anche a lui serve perché lì su da di più e modella il corpo signori guardate lo dico agli uomini ma naturalmente in maniera particolare le donne che hanno magari più necessità di utilizzarlo la pancetta da noi a tutti ma le donne ci tengono un po di più questo signore che fa il consegnatario vedete col furgone porta le cose carica e scarica magari tutto il giorno affaticare non ha certo poi voglia la sera di andare in palestra invece utilizzando la nostra pancera comodamente tranquillamente guidando il suo camioncino vedete lui la porta e ecco risultati lui ha eliminato una parte di quel grasso in eccesso che ha naturalmente là sulla pancia signori guardate che è un miracolo no è un fatto dovuto all'ingegneria che ha studiato appunto questo prodotto particolare unico in esclusiva che abbiamo soltanto noi ve lo sapete una massaia che faccia le faccende domestiche che semplicemente faccia il pranzo che pulisca magari la casa la potrà indossare un'ora due ore tre ore quattro ore al giorno quanto vuole non ci sono problemi e vi accorgerete in poco tempo dei grandi risultati del miglioramento perché avete visto tutto quel liquido è grasso in eccesso non è altro ciò che voi dovete smaltire ma se non aveva la nostra pancera questa nostra amica non avrebbe ottenuto quel risultato anche facendo il giardino non si suda così tanto se non abbiamo la pancera la nostra amica corre sulla spiaggia perché farlo normalmente facciamolo con la pancera che si ottengano quei risultati poi oggi costa così poco in offerta speciale attenzione perché c'è una bella sorpresa oggi state attente perché solo oggi solo per questa trammissione ci sarà una grandissima sorpresa quindi vi consiglio di rimanere con noi perché oltre a pagarla poco beh eccola ecco la sorpresa la regia puntuale ve ne daremo due al prezzo di una ma non finisce qua ripeto due panciere al prezzo di una ma vi daremo anche in omaggio se chiamate fra le prime 50 due collane di perle di mallorca in omaggio quindi voi avrete comprese nel prezzo due collane voi prendete due panciere ne pagate una avete in omaggio due collane più di così non si può e come sempre soddisfatti o rimborsati forza però è che io mi immagino cosa accadrà tra poco al centralino ci saranno migliaia in telefonate guardate solo le prime 50 quindi bisogna avere un po di fortuna prendere la linea in tempo se non ce la fate pazienza magari tenterete per un'altra occasione oggi c'è questa grandissima offerta che non va persa è perché non vi capita più con quella cifra veramente bassa di avere addirittura due panciere e due collane in omaggio che solo le collane costano molto di più di quella cifra quindi in realtà le panciere sono regalate sono gratis mi raccomando però forza è bisogna telefonare guardate vedete un po di pancetta ce l'ha anche la nostra amica giovanissima una modella molto giovane pure lì un pochino va migliorato il corpo e lei l'andossa vi accorgerete si accorgerà che fra poco tempo dovrà addirittura allacciare un po più in là la nostra stringerla un po più in là il brevetto particolare poi è che non avendo lacci bottoni stringhe cose da allacciare si modella perfettamente al corpo e quindi potrà indossare i pantaloni la gonna un abito da sera addirittura e non si vedrà la nostra panciera non avrete un estetismo particolare come accade con le classiche panciere quelle che poi si portano anche male questa elastica non vi dà fastidio non vi impedisce nessun tipo di movimento nessun tipo di ginnastica nessun tipo di lavoro e come vedete non si vede neppure né sotto i pantaloni né sotto una gonna né altrove la vogliate mettere eppure la nostra amica indossa la panciera in questo momento l'avete visto quindi forza datevi da fare cercate di catturare la linea tutti tutti perché serve a tutti anche gli uomini che hanno un po di pancette vogliono essere un pochino più più snelli più belli perché poi quando si dobbiamo spogliare per qualsiasi motivo cerchiamo di nasconderla la pancia è vero facciamo di tutto perché non si veda togliamola invece di fare queste cose cerchiamo di toglierla va bene cerchiamo di fare come fanno i nostri amici usarla magari quando si lavora addirittura quando non avremo tempo per altro e invece è bello dire ho lavorato ma ho pensato anche al mio aspetto fisico al mio corpo alla mia salute perché poi essere più magri vuol dire anche stare bene non avere quella pancetta vuol dire non sentirsi appesantiti specialmente chi deve stare ad esempio su un camion che guida per ore e ore in una posizione sbagliata proprio per questo aspetto fisico bene con la pancetta invece con la pancetta invece non avrà più probabilmente la pancetta brutta se la potrà togliere sicuramente guardate poi io l'ho detto molte volte noi abbiamo la certezza dell'efficacia di questo prodotto perché ormai lo abbiamo testato in tanti anni ed è stato il più grande successo che io abbia mai presentato quindi ormai possiamo garantirvela 100 per cento come sempre poi c'è soddisfatti o rimborsati questo perché perché abbiamo la sicurezza del prodotto che vi diamo ma dicevo anche se magari voi potreste pensare ma non fa così tanto se non altro vi servirà per essere più belli quando vi vestite perché già vi modella il corpo come la indossate ma poi non è vero guardate questa dimostrazione più più vera di quello che vi dicevo la nostra amica non sudava così tanto da avere tutto quel liquido in eccesso che sono tutte tossine grasso che va eliminato che va tolto perché dà fastidio perché veramente brutto da vedersi e poi oggi addirittura con questa offerta incredibile che però bisogna cercare di prendere al volo cercate di telefonare provate insistete fate il numero più volte ve ne diamo due di panciere per voi per vostro marito per voi per vostra figlia per voi per la vostra amica e addirittura vi regaliamo due collane di perle di maiorca che solo una collana vale di più di quello che state pagando in questo momento però è una grande offerta valida per pochissimo soltanto 50 telefonate quindi non bisogna perdere tempo bisogna continuare a formulare quel numero ripeto se trovate occupato non è colpa nostra non siamo noi che non vogliamo darvele è che ci sono molte moltissime richieste perché questo è un problema purtroppo che tocca il 50 60 per cento di tutti gli italiani uomini e donne che siano quindi mi raccomando non perdete questa occasione che non capita tutti i giorni perché noi normalmente davamo una panciera a quell'offerta a quel prezzo e magari non è che vi voglia sconsigliare ma insomma tutti gli altri sistemi io vedo oggi bottoni elettrodi tutte quelle cose lì c'è sempre un fatto legato all'elettricità l'idea di avere ripeto poi non succederà niente però l'idea di avere questi bottoni qua da fastidio e poi non migliorate il vostro aspetto immediatamente e non potete naturalmente usarla mentre magari avete un bel l'abito quindi sono cose che dovete fare in un certo momento perderci un po' di tempo poi i risultati ci saranno io non ripeto non voglio denigrare gli altri voglio soltanto dire che questo è un prodotto naturale che non fa male che lo potete portare sempre che è stato da tanti 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 anni di successo mi raccomando telefonate immediatamente lasciate nome e cognome numero telefonico riceverete due panciere e due collane e direte meno male che quel giorno stavo guardando la tv un saluto a roberto artigiani che vi vuole sempre più belle più allegre e anche magari con con soldi in mano perché avete speso pochissimo ma veramente quasi niente ciao